Speciale TOSM ITM 2011 ADP è una delle realtà principali in Italia che si occupa di amministrazione e gestione del personale. L'azienda si rivolge a tutti i vari settori merceologici oggi esistenti in Italia. Essendo un gruppo internazionale, permette di gestire anche progetti complessi legati quindi ad aziende che operano nel settore a livello internazionale. La nostra specialità è quella di gestire tutti i processi legati all'amministrazione e alla gestione personale sia in termini di gestione strategica che amministrativa. Con i nostri servizi gestiamo circa 2 milioni di cedolini al mese in tutta Italia. Per eventuali contatti potete rivolgervi al sito www.it-adp.com Speciale TOSM ITM 2011